In primavera, sette uomini a corto di fortuna tornano nel freddo nord. Andiamoci dentro! A caccia di oro. È ora di incassare! La squadra degli Hoffman sembrava non farcela neanche stavolta. Jack! Cosa? Cut! Ma dopo aver versato lacrime, sudore e sangue, stavolta hanno estratto una quantità d'oro notevole dalla terra del Klondike. Mamma mia! Niente male! 3.000 grammi, ragazzi! Per la prima volta, dopo due lunghe stagioni, gli Hoffman hanno la possibilità di ricavare un profitto serio e diventare dei veri minatori. Cut! Sai che ti dico? Questo non è un gioco! Il punto è, ce la faranno? Fermo! Stai lì! Stagione finita! A Porcupine Creek, forse i ragazzi di Dakota hanno fatto centro, appena in tempo. È pieno d'oro qui! Al di là del fiume, il diciassettenne Parker Snable ha un'ultima occasione per salvare la miniera di Big Nugget. Se qui non c'è oro, non so come andrà a finire. Quartz Creek, Klondike. Siamo a fine settembre. Gli altri minatori della zona sono già ripartiti per l'inverno. Per ottenere il primo profitto in due stagioni, gli Hoffman hanno un disperato bisogno di terra aurifera. Ma l'inverno sta stringendo la morsa. È ghiacciata e dura come roccia. Ma voglio arrivare a 3000 grammi. Beh, intanto possiamo provarci. O così o torniamo a casa. E non ho ancora voglia di fare i bagagli. Negli ultimi quattro mesi, la squadra degli Hoffman ha scavato la terra aurifera della loro concessione. Ora è tutta un'altra cosa. Dopo aver rimosso 12.000 metri dalla Fossa 1, ne hanno asportati altri 7.000 dalla Fossa 2. Scarico l'ultimo della Fossa 2. Le prime due fosse hanno prodotto 2300 grammi di oro, per un valore di 130.000 dollari. Ora, la Fossa 3 è l'ultima possibilità di raggiungere il loro obiettivo. Ma il terreno è duro come roccia. Dave, tira fuori 200 o 300 metri di terra da qui. Ci aiuterebbe molto. Proverò a fare sempre il massimo. No. Ce la metterò tutta. Non voglio che ci provi. Voglio due o 300 metri. Fa freddo. La terra è ghiacciata. C***o! Dammi 300 metri di terra! Guarda qui. Non posso fare miracoli. È ghiacciato. Se l'oro è qui sotto... E tu scava, Dave. 200 metri, va bene? Scava. Dacci dentro. Lo puoi fare. Guarda quanto hai scavato. Sono altri 300 metri, Dave. Ma non posso fare miracoli. Non posso. Scava, non importa. Spingerò la macchina al massimo. Bravo, spingila. È roba tua. Tu fallo. Sì. Un minatore deve spingere e darci dentro. O ti piace o puoi solo andare a casa. E qualcuno qui se ne vuole andare. Contro ogni previsione, la squadra degli Hoffman ha fatto oro sufficiente a coprire le spese di gestione. Ma a quest'anno sono decisi a ottenere un vero profitto. In quel caso si dimostrerebbero dei veri cercatori d'oro. Arrivare a tre chili è importante per me come per tutti gli altri. Forse per me lo è ancora di più. Non mi piace proprio come va questo bulldozer. I cingoli slittano davvero troppo. Ma Todd vuole questa terra e sto facendo quello che posso. Questa macchina è fatta per scavare ghiaia, terra, non solido ghiaccio. Perf***a, cavolo. Oddio. Oh, bene, è andata Lo sapevo Cavolo! Oddio Levati di torno Ehi, sai che ti dico? Questo non è un gioco Ho appena distrutto una macchina da 60.000 dollari E non sto giocando più Va via e lasciami stare Va via, ho detto, sparisci È finita, Jim Basta Che c'è? Te l'ho detto che la ruspa non si può forzare così tanto È andata Ho rotto la guarnizione Fermo, fermo, stai lì Amico, vieni Non arriviamo a tre chili, non possiamo No, fermo Ehi, calmati, calma, Dave La guarnizione è andata, Todd Ci sono stato attento, ma è stato inutile Pensiamo a un modo per portare qui la terra La laviamo e vediamo come va Bene Vediamo quello che c'è Lo sai che c'è? Se è di meno Fallo tu Fallo tu Se è di meno, va bene lo stesso Lo sai, te l'avevo detto Auguri Ehi, Dave Vieni qui La stagione è finita Ehi, Dave Torna qui Giù a Porcopine Creek Anche i ragazzi di Dakota danno la caccia all'ultimo oro della stagione Presto, l'inverno dell'Alaska li manderà via da qui Ti senti in forma oggi? Mettiamaci al lavoro, sono pronto È da una settimana che non consegnano più carburante Sembra un po' vuoto qui Ne resta poco Ne resta davvero poco Bene, abbiamo toccato il fondo ora Forse ci basterà per un paio di giorni e poi saremo a secco Io non ho i soldi per fare un altro carico di gasolio Siamo alla fine ormai Siamo alla fine Nelle ultime tre settimane Fred e Dustin hanno scavato la terra grigia del sostrato In fondo alla fossa di 24 metri C'è un sacco di oro in quella terra Non lasciarne neanche un granello Questa stagione hanno estratto 68 once Circa 2000 grammi Per un valore di quasi 110.000 dollari L'ultima pulizia della terra grigia Ha fruttato quasi 28.000 dollari In soli due giorni di lavoro Padre e figlio devono lavare quanta più terra possibile Come gli Hoffman hanno coperto le spese E ora vogliono raccogliere i frutti di una stagione lunga e faticosa E ora vogliono raccogliere i frutti di una stagione lunga e faticosa